Ciao Midici, video di recensione di questo utensile multiuso nato appositamente per fotografi o operatori video. È praticamente una specie di coltellino multiuso, quello che non ha è appunto il coltello e diversi altri attrezzi che si trovano nei coltellini multiuso, quelli che hanno mille possibilità di utensili all'interno, qui il numero di utensili è particolarmente limitato, però quello che c'è di buono è che sono in genere le punte che si ha bisogno nell'ambito foto e video nel 90% dei casi. Allora partiamo dal cacciavite piatto, sappiamo che quando dobbiamo andare a avvitare la video a un quarto di bollo sotto le fotocamere spesso abbiamo bisogno del classico cacciavite dove si utilizza una monetina, quindi un cacciavite ben piatto, il materiale è molto buono, quello che è interessante è il pulsante di blocco, quindi per tirare indietro bisogna premere questo pulsantino, per tirare avanti bisogna fare questo. Non tende a piegarsi proprio per il fatto che la scelta del materiale è azzeccata, cioè un acceio molto buono e quindi abbiamo l'utensile che utilizziamo maggiormente, che sicuramente usiamo più delle altre che adesso andremo a vedere, che è decisamente fatto bene. È centrale e quindi non è come succede in molti coltellini multiuso che è una cosa laterale che è assorta. Andiamo a vedere questi altri. Allora hanno una levetta molto facile per toglierli, quindi parliamo di un oggetto, comunque vi dico velocemente il prezzo, che costa tantissimo, come viene 40 euro, quindi se io vi avessi chiesto secondo voi quanto costa quel tuo coltellino multiuso, penso che la media dei prezzi che potevate dire così a indovinare non poteva superare i 20-25 euro, magari anche 15 euro. Però vi faccio vedere le caratteristiche che mi hanno convinto a comprarlo. Innanzitutto va bene le recensioni. Poi guardate questa cosa qua. Premendo escono fuori subito gli oggetti che dobbiamo fare uscire. Vedete? Premendo a destra, premendo a sinistra, escono fuori. E questo ci fa sicuramente risparmiare molto molto tempo rispetto a quelli che devi stare là a tentare di sfidarli da qui. Quindi c'è questa levetta qua che li fa uscire. Non solo. Una volta usciti, e dobbiamo magari utilizzare uno di questi, è molto molto stabile. Non si ha l'idea di qualcosa che si possa rompere con l'utilizzo. Andiamo a vedere in particolare cos'è che troviamo qua. Qui abbiamo queste chiavette esagonali che ci stanno quasi tutte quelle là che potremmo averne bisogno. Io direi che manca la chiavetta un po' più piccola di questa. Questo qua è una dimensione già abbastanza piccola, però ad esempio che non so, vedete queste viti qua? Queste qua non le sviderebbe, sono più piccole. Però è vero anche che nel 90% dei casi le chiavi quando ci stiamo in giro, ci stiamo ad operare, fanno parte di queste qua. Le vediamo da sopra, vediamo che ce le abbiamo tutte quante. Vedete come sono accoppiate? Una piccola piccola e quella più grande, poi quelle due medie che stanno qua. In maniera tale da ottimizzare lo spazio, quindi sono razionali anche in questo. Andiamo a ripiegarle, vediamo dall'altra parte. Dall'altra parte abbiamo solamente due utensili che facciamo uscire facendo questo movimento. uno è il cacciavite testa a croce e poi quest'altra chiave esagonale, un po' tonda così, che anche questa può capitare di utilizzare. Quello che manca forse, no, sicuramente mancano, perché avendolo fatto piccolo, una cosa che si è sempre in tasca, ci sono tante cose che mancano. Però, di quello che potrei sentire la mancanza io, è magari un cacciavitino piatto, però un po' più piccolo. Allora, ritendiamo a vedere per un attimo questo. Guardate, veramente è fatto molto bene. 131 Falling. Per ritirarlo giù si preme. Altre caratteristiche da notare è il fatto che qui ci sono delle filettature. Ora, questa è una vite da un quarto di pollice, adesso c'è un adattatore per un microfono, però vi faccio vedere come questa vite entra qua dentro. Quindi, vuol dire che noi qua abbiamo, in questo punto qua, abbiamo due viti da un quarto di pollice e poi viti anche più piccoline. Quindi, se per caso noi abbiamo quei case per la macchina fotografica e che magari abbiamo paura di perderci qualche vite o magari troviamo qualche vite e non sappiamo esattamente dove va a messa, le possiamo avvitare qua nel nostro cacciavitino. in maniera tale da avere, comunque, da portarci dietro anche qualche vite di ricambio e sappiamo dove avvitare. Quindi, noi diciamo, questo spazio qua non l'hanno perso. L'hanno utilizzato per fare questo. Di qua, invece, abbiamo la possibilità di inserire un laccetto. Quindi, possiamo tenere anche, eventualmente, come portachiavi. e quindi, nel complesso, nel complesso ho deciso di affrontare questa spesa anche se, oggettivamente, anche a me 40 euro sembra un pochettino troppo. Avrei preferito una spesa, magari 28 euro mi sarebbe sembrato un prezzo più ragionevole. Però, tutto sommato, alternative su Amazon di prodotti, diciamo, pensati apposta per un operatore video non ce ne sono così carine. Dei prodotti che stanno sulla faccia dei 15 euro sembrano molto meno durevoli. coltellini, che ne so, quelli che ho regalato a mio figlio che costavano intorno ai 15 euro. Poi, col tempo, si sono smontati. Qua, leggendo le recensioni, che poi non sono di ragazzini, sono genere che ha speso 40 euro, sono genere di gente che ci lavora. Le recensioni ne parlano tutti abbastanza bene sulla durata nel tempo di questo prodotto. Io, chiaramente, l'ho appena acquistato. Altre cose che vi posso dire è la confezione, che era una confezione carina di cartone e un sacchettino abbastanza poverino. C'era, sì, ma, insomma, fatto proprio per essere buttato subito dopo perché questo è un oggetto da non tirare fuori dal sacchettino ma da tenersi proprio bello e pronto a portata di mano per essere utilizzato quotidianamente. E proprio per questo, essendo un oggetto di uso praticamente quotidiano da portarsi sempre con sé se l'oggetto è di buona qualità. Vediamo il tempo che si può risparmiare in questo. Il fatto che magari un oggetto di qualità bassa poi tendono a rompersi qualcuno di queste qua. speriamo che la durata vada a rivagare questa iniziale spesa abbastanza alta. Vi lascio chiaramente il link in descrizione. La marca la vediamo. Small Ring. Eccola qua. Ok, vi lascio il link in descrizione. Un saluto a tutti i mitici. Ciao, mitici.